Un attimino che cos'è questo nuovo format, che cosa sarà. Storie di protagonisti racconterà la storia, chiaramente, attraverso i personaggi, quindi i protagonisti che ci sono stati e che ci hanno portato fino a qua, gli eventi e, diciamo, sostanzialmente ci saranno anche un po' degli ospiti per la storia contemporanea, insomma, quindi spazieremo su vari argomenti e dalla storia contemporanea, come dicevo, la musica, il vino, l'editoria, quindi ci sarà un pochino di tutto. Chi più ne ha più ne mette. Esattamente. Visto che questa è la prima puntata di Storie di protagonisti, noi ci troviamo in una struttura che si chiama Il Pertini Radio e lo strutturale si chiama Il Pertini Biblioteca, chiaramente, centro culturale Il Pertini, perdono, e Il Pertini Radio non potevamo che iniziare con il nostro presidente più amato da tutti gli italiani, Sandro Pertini, che ci saluta, qua dietro di noi, con la nostra bandiera e un saluto chiaramente anche in regia a Barbara e Noemi. Buonasera, buonasera. Salutiamo. Barbara, noi non facciamo niente per quello che riguarda la pizza o altre cose, però se hai bisogno, non so, di sushi, non lo so, pizzoccheri, non so, dimmi tu, dimmi tu, vedi tu, avvistami tu. Sai qualcosa da suggerirmi assolutamente. Ok, perfetto, perfetto. Allora, come dicevo, io e Lorenzo siamo ormai amici da 30 anni, praticamente, esatto, e quando gli ho chiesto di fare questo programma con me, diciamo che fa, bellissimo, figata, sì, sì, subito, subito. Quindi vedrete sempre i nostri due faccioni su questa trasmissione, insomma. Quindi iniziamo questo viaggio con Sandro Pertini, che è stato il presidente più amato degli italiani. Quindi ha avuto una vita pazzesca, possiamo dirlo, una vita pazzesca, fatta di qualsiasi cosa, cioè ha vissuto probabilmente 30 delle vite che potremmo vivere noi. Quindi c'è talmente, ci sono talmente tante cose da dire che non le diremo tutte, cioè questo è fuori discussione. Toccheremo quelli che sono chiaramente i punti principali. Quindi, sì, i principali, i più interessanti, insomma, per delineare al meglio una figura comunque emblematica per quella che è la nostra storia. Assolutamente, quindi diciamo che partiamo sicuramente da Sandro Pertini, nasce a Stella e, vabbè, poi ha avuto una vita pazzesca, nasce a Stella e diciamo che... Provincia di Savona. Provincia di Savona, esatto. Ligure. Non tutti sapranno dove è Stella. Assolutamente. A Stella, provincia di Savona, è uno che viene dalla regione Liguria. Tra l'altro c'è un mio amico di Genova che ci sta guardando, che saluto, ciao Alessandro. E' arrivato comunque un commento da Martina Cosenza che dice vai amore. Ah, perfetto. Un saluto, un saluto. Grazie Martina. Un bacio, ciao. Niente, appunto, diciamo, nasce a Stella, in provincia di Savona e diciamo che nella sua giovinezza ha fatto di tutto. Era un periodo chiaramente quello di fine ottocento, perché nasce nel fine ottocento, e vive sostanzialmente la prima guerra mondiale, purtroppo, da quasi protagonista, nel senso che lui fa parte di quelle che sono le truppe italiane. Sì, assolutamente, da protagonista, visto che nonostante lui fosse, come gran parte dei socialisti italiani, su posizioni non interventiste, tant'è che andò a contestare in gioventù proprio un comizio di dannunzio che tenna Genova, in cui appunto esortava la popolazione ad abbracciare la posizione interventista, però nonostante questo, alla fine, quando l'Italia entra in guerra, lui viene chiamato alle armi, è costretto ad imbracciare il fucile, lui combatte sul fronte dell'Isonzo, quindi contro gli austriaci, e si distingue anche in un'operazione in particolare, tant'è che questa operazione gli avrebbe dovuto garantire una medaglia che invece però non gli fu mai consegnata, perché emersero le sue simpatie socialiste Verso il socialismo E anche il fatto che lui appoggiasse posizioni non interventiste Certo, assolutamente, tra l'altro, vado a leggere perché questa non me la ricordo, la battaglia doveva essere, aveva guidato nel 17, un assalto al monte Yilenik, quindi per questa cosa doveva essergli appunto conferita questa medaglia, che appunto però non gli è stata data, ma successivamente gli fu data nell'85, se non sbaglio Sì, però lui la rifiutò E lui la rifiutò di nuovo, perfetto Quindi, questo dà anche, diciamo, un po' un'immagine di che tipo di personalità fosse, insomma, una persona molto legata anche al suo trascorso, a quello che aveva vissuto, ai suoi ideali, e non voleva vedersi riconoscere una medaglia per un fatto così sanguinoso come era stata la Prima Guerra Mondiale, da cui lui avrebbe volentieri preso tutte le distanze possibili Assolutamente, quindi diciamo che comunque sia, è sempre stato, sin da giovane, una persona che pensava una cosa e la portava fino in fondo Certo, come poi, diciamo, si rifletterà in tutta la sua carriera politica Assolutamente, certo, certo, assolutamente No, no, assolutamente E quindi tocchiamo appunto questo argomento della Prima Guerra Mondiale, dove lui appunto ha avuto questa esperienza, ripetiamo, purtroppo da protagonista in questo senso E passiamo poi a quello che è stato poi la Seconda Guerra Mondiale, quello che è successo un pochino durante la Seconda Guerra Mondiale Esattamente, perché essendo appunto un socialista convinto, iscritto al Partito Socialista e quant'altro, chiaramente incorre in cappa in tutte quelle che sono le misure restrittive messe in atto dal regime Inizialmente viene raggiunto dall'obbligo del confine, insomma doveva essere spedito all'estero per allontanarlo il più possibile dall'Italia Così da non sobillare eventuali tentativi insurrezionisti o comunque... Certo, perché c'era il regime comunque fascista Esattamente, e lui rifiuterà di andare al confine e verrà quindi incarcerato In carcere passerà parecchi anni, all'incirca una decina d'anni, fino alla caduta del regime, quindi nel luglio del 43 Durante il periodo carcerario lui ebbe anche modo di conoscere Antonio Gramsci E stringere con lui un legame che infatti ritornerà molto spesso nei ricordi, nelle interviste che facevano a Pertini Lui richiamava sempre questo legame che aveva avuto estretto con Gramsci all'interno del carcere E appunto poi verrà liberato, verrà scarcerato all'indomani della caduta del regime fascista nel 1943 Si unisce subito alla lotta partigiana, ovviamente super convinto Partecipa a diverse azioni, sia nel nord Italia che nel centro Fin quando però, qualche mese dopo la scarcerazione, viene arrestato dalle SS Esatto, e qui c'è un fatto molto curioso Esatto Perché lui è in carcere con altri sei persone arrestate che comunque facevano parte del Partito Socialista Comunque andavano contro quello che era il regime E una di queste sei persone è Saragat Il buon Giuseppe Saragat Esatto, che sarà, quindi lui e Saragat erano dei futuri praticamente presidenti della Repubblica Italiana Esatto, e insomma futuri compagni di partito, poi futuri anche diciamo avversari Perché poi all'indomani della caduta del regime, dell'instaurazione della Repubblica Dell'Assemblea Costituente, dei primi anni diciamo dell'Italia Repubblicana Il Partito Socialista si spezzerà nel 1956 Quando avremo quindi una fazione, una corrente guidata da Saragat Che appunto attraverso questa scissione si staccherà e creerà un altro partito Quindi andando un po' a contrapporsi con quello che era il partito d'origine, il partito socialista Pur rimanendo su posizioni socialiste ma più diciamo democratiche, filo-occidentali Rispetto a quelle del partito socialista Assolutamente Vero, vero e proprio Ed è molto diciamo emblematica la situazione che si viene a creare in carcere Poiché Saragat e Pertini saranno protagonisti anche di una rocambolesca evasione Che viene organizzata in 4-4-8 praticamente In una notte In una notte esatto Avevano pochissime ore di tempo per farli evadere Prima che venissero tutti questi sette prigionieri politici venissero fucilati dalle SS Perché erano appena sbarcati gli alleati Quindi dovevano accelerare le esecuzioni Avevano un po' di prigionieri da smaltire diciamo così E praticamente Pertini, Saragat e gli altri 5 verranno aiutati in questo piano di evasione Organizzato fra gli altri da Vassalli che in futuro diventerà un famoso giurista E anche sempre in area socialista sarà uno dei papabili nomi all'elezione per la presidenza della Repubblica Quando anche poi alla fine verrà eletto Pertini E praticamente creano, falsificano questi documenti di scarcerazione Che riguardavano appunto questi 5 prigionieri Avevano pochissime ore per consegnarli Ecco perché dovevano praticamente sfruttare il cambio della guardia per farli sparire E qui Pertini perché all'inizio i documenti di scarcerazione erano solo per lui e Saragat Mentre Pertini disse o usciamo tutti o non esce nessuno E alla fine ha dovuto fare anche quelli per gli altri 5 perché sennò sarebbero rimasti lì Quindi diciamo che come detto prima è un uomo che aveva le idee molto chiare su quello che... Esatto, prende una posizione, la mantiene direi a costo della vita Assolutamente a costo della vita Quindi oltre appunto, passiamo adesso dalla seconda guerra mondiale A quella che poi è stata un pochino l'elezione Ma prima dell'elezione ci fu un presidente che era Leone Che è stato Leone Dove diciamo che a livello istituzionale Non era vicino agli italiani come lo è stato Pertini Ma perché questa cosa? Allora, diciamo che per quanto riguarda il rapporto della società italiana con la propria classe politica Pertini rappresenta quasi uno spartiacque Perché prima che Pertini fosse eletto presidente della Repubblica La politica, i politici, soprattutto chi ricopriva importanti ruoli istituzionali Era vista in maniera distaccata quasi dalla società Qui c'è il popolo e qui c'è il politico Esatto, doveva mantenere un rigore di forma, morale e quant'altro Che poi spesso mal si applicava alla vita di tutti i giorni Poi vedremo rapidamente anche un attimo la situazione che c'era Quando Pertini arrivò alla presidenza della Repubblica Però insomma, lui va un po' a smontare questa immagine del politico In giacca e cravatta In giacca e cravatta Persino in spiaggia Ecco, va un po' a smontarla presentandosi come un presidente molto più popolare Molto più vicino al popolo Soprattutto ai giovani Altro tema importantissimo che a Pertini stava molto a cuore Quindi già da questo punto di vista rappresenta un bello spartiato Certo, certo In più c'è da dire che nel 78 Scandalo Scandalo Esatto Quando Pertini giunge alla presidenza della Repubblica L'Italia è, diciamo, in un periodo molto delicato Siamo reduci da numerosi scandali e crisi Citiamone qualcuna su tutti Lo scandalo Lockheed Che aveva visto Aveva visto Sono anche le mosche qua Scusate Aveva visto al centro dell'attenzione Il presidente della Repubblica di allora Cioè Leone Che praticamente lui e altre figure politiche di primo piano italiane Ma non solo In realtà era uno scandalo che era diffuso un po' in tutta Europa Avevano accettato delle tangenti sostanzialmente per acquistare dei livoli militari Appunto di produzione di questa azienda Lockheed E prima ancora Cioè il colpo di Stato c'è stato negli anni 60 forse Non un colpo di Stato vero e proprio Quasi Ma diciamo che il presidente dell'epoca Che era Segni Invece presidente della Repubblica Aveva stipulato degli accordi Con un generale dei carabinieri Che all'epoca era in capo al SIFAR Che era all'epoca la nomenclatura dei servizi segreti italiani Per cui ci sarebbe dovuto essere questo intervento dei carabinieri In caso di un tentativo di sollevazione di massa delle piazze Per riprimere Esatto Erano comunque gli anni della guerra fredda Diciamo la questione di una possibile rivoluzione di stampo comunista o socialista in Italia Era molto sentita E quindi Diciamo il presidente Segni Aveva ideato questo piano Quindi diciamo che arrivavamo da un periodo non tanto bellissimo Sia politico che economico Esatto A livello politico Poi un altro grande scandalo degli anni 60 Fu il caso Montesi Che praticamente questa giovane ragazza di Roma Che viene trovata senza vita Su una spiaggia di Ostia Poi viene fatto tutto risalire a dei festini A base di sesso e droga Organizzati da un figlio di un noto esponente politico dell'epoca Quindi insomma la società politica dell'epoca era un po' incrinata Certo L'immagine della società politica era molto incrinata Serviva una figura diversa Esatto Rispetto a quello che era già stato E non solo Perché anche a livello proprio sociale La situazione in Italia era tesissima Certo Erano gli anni di piombo Pertini viene eletto all'indomani Del delitto del rapimento e dell'omicidio di Aldo Moro Assolutamente Tra l'altro Pertini nel caso del rapimento Moro Sposò la linea governativa del non trattare con i terroristi Lasciando sostanzialmente Moro al suo destino Al contrario di quanto voleva il capo del suo partito Cioè Craxi Anche perché anche lì dicevano che le Brigate Rosse in quel caso Era la nuova resistenza Invece lui avendo fatto la resistenza diceva Ragazzi no questi sono dei terroristi Non è una resistenza Esatto Quindi posizioni molto forti Portate avanti anche a discapito delle posizioni del proprio partito Certo Assolutamente Perché era un uomo convinto delle sue idee Ancora una volta questa cosa ritorna sempre Esattamente Esattamente E niente quindi diciamo Pertini arriva alla presidenza della Repubblica In una situazione veramente veramente delicata Certo assolutamente E tra l'altro lui fa un discorso che tra l'altro adesso citeremo Adesso lui fa un discorso Lorenzo ha andato a prendere il discorso di Pertini Quando è stato eletto presidente della Repubblica Quindi adesso citiamo questo discorso Dove Adesso non è anche La presidenza della Camera A presidenza della Camera Prima di Prima chiaramente Di deputati E proprio in occasione dell'insediamento Al suo primo mandato Della presidente della Camera Come presidenza della Camera Fece un discorso Esatto Da poi appunto Ora Dove dice Adesso io sicuramente non sono neanche paragonabile Ma andiamo a prendere quelle che sono state le sue parole Dobbiamo con la nostra attività di ogni giorno Con la nostra limpida condotta Essere ad esempio ai giovani E far sì che essi Stimando i membri del Parlamento Al Parlamento Guardino fiduciosi Solo tenendo la loro stima E la loro fiducia Potremo esortarli Con la speranza di essere ascoltati A restare sul terreno democratico Ed avanzare democraticamente Le loro proposte Dei giovani Onorevoli colleghi Dobbiamo preoccuparci Se lasciamo che tra essi E noi si scavi un solco Potrebbero maturare giorni tristi Per la patria Perché la gioventù di oggi È la classe dirigente Di domani Ma i giovani Si persuadano di questa verità Quando in un paese La libertà è perduta Tutto è perduto Una società democratica Non può prescindere mai Dalla condizione umana Dei suoi membri Perché democrazia Vuol dire anche Giustizia sociale Ecco Diciamo che queste sono parole Un attimino Non so Che vedendo un attimino Quello che è stato Questo nel 1900 E adesso Siamo nel 2024 Mi sembra che comunque sia Ritornino un pochino Il fatto che comunque La libertà Debba essere messa Sopra tutto Questa cosa Lo era allora Lo è adesso E lo sarà sempre Si perché comunque Ricordiamo appunto Tutto il trascorso Nel suo passato Nella resistenza Insomma L'ha assegnato parecchio Quindi per lui Il tema della libertà È sempre stato Un tema fondamentale Certo Assolutamente E in questo discorso Uno dei dogmi Esatto E in questo discorso Lo lega a doppio filo Con la tematica Dei giovani Dei giovani Rivolgersi ai giovani Essere esempio dei giovani Insomma Tutte prese di posizione Assolutamente E un tipo di discorso Che difficilmente Si sentiva All'epoca No è vero Assolutamente Ma il fatto che Comunque lui Sia sempre legato Ai giovani Ci sono tanti video Su Youtube Reel Comunque di Instagram Dove Si vede Pertini Che parla Con studenti universitari Pertini Che discute Con studenti universitari Quindi è sempre stato Un qualcuno Che voleva portare I giovani Dalla sua parte Nel senso Dalla parte chiaramente Non della politica O del socialismo Per l'amore di Dio Però cercare Di coinvolgerli In quello che era La politica Di allora Certo E questo diciamo Che era un po' Un suo tratto distintivo Comunque quello Di farsi vedere Di essere sempre presente Perché ad esempio Lui sarà Si recherà In prima persona In tanti Anche quando c'è stato Il terremoto Ma ricordiamo anche L'attentato Alla stazione Di Bologna Era lì E raccontava I microfoni Alle telecamere Che lo riprendevano In quel momento Delle urla Strazianti Che aveva sentito Di donne Di persone Ancora Incappolate Era andato A visitare I feriti Era rimasto Molto colpito Da una bambina Che era Poi morta Di lì Di a poche ore Che era rimasta Convolta In questo In questo Attentato Che appunto Si inseriva In tutta quella Cornice Che erano gli anni Di piombo Quindi una strategia La strategia Della tensione E qui ritorna Il politico Che va vicino Al popolo Quindi non rimane Carica istituzionale Fa il discorso Chiaramente C'è stato questo Faccio il discorso In televisione Tra l'altro Mi sembra che lui È stato lui Che ha introdotto Il discorso Di fine anno Esatto Altra novità Che introduce E tra l'altro Portandolo In una maniera Appunto Molto colloquiale Popolare Pur mantenendo Perché poi anche In questo Era molto bravo A mantenere Il giusto equilibrio Certo Lui dice Comunque io sono Il presidente Della repubblica Esatto Fra popolarità E istituzionalità Certo Questi due piatti Della bilancia Erano perfettamente Sullo stesso piano Insomma Quindi diciamo È veramente Stato Il presidente Che era al fianco Del popolo E secondo me Questo si vede Anche appunto Come hai citato tu Prima Nel terremoto Dell'Irpinia Che colpi appunto Questa zona Della campagna Negli anni Negli anni Ottanta Se non sbaglio Adesso non vorrei Adesso andiamo a vedere Dove è stato Il terremoto Dell'Irpinia Nel 1970 Sì più o meno 70-80 Sì siamo Lui era già Presidente Della repubblica Era nell'ottanta E tra l'altro E tra l'altro Questo fatto Del terremoto Dell'Irpinia Creò quasi Un caso politico Diciamo Perché Lui fu molto Veramente Tanto critico Nei confronti Delle Delle forze politiche Perché Qualche anno prima C'era stato Un altro terremoto La zona Era al Belice Se non sbaglio 13 anni prima E Ancora Dopo 13 anni Nonostante Fosse stata messa In moto Una macchina Per stanziare I fondi Per la ricostruzione 13 anni dopo Le vittime Di quel terremoto Erano ancora Senza nulla Senza nulla E Proprio in quell'occasione Lui fece un discorso Che tra l'altro Sei stato bravissimo Prima Secondo solo Apertini Nel leggere Quella citazione Lui fece un discorso In cui criticava Apertamente Questa situazione Si domandava Ma questi fondi Che finanfatto Sì quasi un'autodenuncia Verso Cioè La sua istituzione Come presidente De la Repubblica italiana Esatto E Sperava E insomma Invitava Tutte le forze politiche Ad agire Affinché Una situazione del genere Non Non si ripresentasse Scusate Intanto Chi non avesse capito Questi sono Apertini E Saragat Nella loro cella Quando erano stati Incarcerati Chiaramente qui Molto tempo dopo Ecco Un'immagine Abbastanza suggestiva Ah questo è lo scandalo Di cui Di cui parlavamo prima Dei colpi di Stato Presi Presi dal dialogo Se è rimasto un po' indietro Esatto Perché Insomma Parlare così Poi Star lì a cambiare È abbastanza difficile Questo vabbè Eccoci Ah c'è qui Questo era il discorso Che avevamo citato prima Quindi appunto Dicevamo che Un presidente Comunque Molto vicino ai giovani Un presidente Che riusciva a mantenere L'istituzionalità Nonostante fosse popolare Appunto come avevamo citato È sostanzialmente Uno che ha cambiato Il paradigma Di quello che è Di quello che era Il presidente Della repubblica Perché lui è arrivato Convinto sempre Delle sue idee Di andare avanti Per la sua strada È andato contro Craxi Quando c'era il discorso Delle brigate rosse Quindi è una persona Che Faceva bene al popolo Diciamo un po' così Cioè lui era Tra l'altro In un suo discorso Se non sbaglio In un'intervista Lui diceva che In Parlamento Lui era sempre Quando era presidente Della Camera Era sempre stato trattato Bene da tutti Destra, sinistra Perché lui comunque Rimaneva leale A quelle che erano Le proprie idee E discuteva Di queste cose Con gli altri Esattamente Cioè lui aveva Proprio questa cosa Lui era leale All'idea Del socialismo In questo caso Come lo era Pertini E andava avanti Per quella strada Cioè non c'era Cioè c'era nulla Che lo tenesse Lui non offriva sconti Di alcun tipo No assolutamente L'importante è che appunto Ci fosse la libertà Di espressione La libertà di vivere Cioè questo era Per lui sicuramente Fondamentale Perché chiaramente Ha avuto una vita Con la guerra Dove ha combattuto Dove ha riprendere La medaglia Cioè nel senso È proprio Veramente Trenta delle nostre vite Su questo piano Sì sì assolutamente E appunto Come già detto Tutto questo passato Proprio Lo si vede Che lo ha formato Davvero Gli è servito Davvero E insomma L'ha trasformato Poi nel presid... In quello che sarebbe Diventato il presidente Della repubblica Più amato dagli italiani Assolutamente E lo è ancora Cioè nel senso Perché adesso Penso proprio Noi che non l'abbiamo vissuto Cioè noi non l'abbiamo vissuto E quando lui è morto Noi ancora non eravamo nati Quindi Però Diciamo che Ascoltando i genitori Ascoltando i nonni Di tutti quelli Che ci sono stati Lui è stato Quello più amato Ancora oggi Cioè ancora oggi Che noi non l'abbiamo vissuto Quindi è un qualcosa Non so Non mi viene in mente Un giovane adesso Magari anche vicino Alla politica Di 25-30 anni Che dice Ah Non so Mattarella Napolitano Con tutto il rispetto Per l'amor di Dio Assolutamente Non si è insultato nessuno Però di fronte a una figura Che è rimasta nel cuore Nella mente Di un popolo Cioè è difficile Arrivare a quei livelli Sì Guarda Riprendo anche Questo parallelismo Che hai fatto te Fra un giovane di adesso Certo Magari un giovane di allora Però c'è da considerare Una cosa Che è molto cambiata Certo La società E quant'altro In queste banalità incredibili Però soprattutto In questi anni Non erano ancora Scoppiati Grandissimi scandali Che avrebbero poi Investito Tutta la Certo Quella che viene definita Prima Repubblica Quindi sostanzialmente Lo scandalo P2 A cui a breve arriveremo Esatto E soprattutto L'inchiesta Mani pulite Tangentopoli Esatto E che Da qui Si può Quasi tranquillamente Dire che La La classe politica italiana Non si è mai davvero Più ripresa Non ha mai più ripreso Quello status di Autorevolezza Che aveva Che aveva prima Quindi anche questo Diciamo Pesa Pesa nel bilancio Ma io ricordo Un video dove Craxi usciva Dalla sala Dove l'avevano interrogato Dove c'era L'interrogatorio Comunque Che gli lanciavano Le monetine Gli lanciavano Le monetine Quindi Cioè nel senso Sì poi Quello è un discorso Molto Molto complesso Certo No per l'amor di Dio Infatti Non è l'argomento Di oggi Sarebbe meglio Trattare In un'altra sede Perché veramente Si aprono Sì Di tutto e di più Tanti distinguo Tanti Tante casisti Diverse Che si sono succedute Poi sono esplose Tutte insieme Assolutamente Che insomma Meriterebbero un approfondimento Molto più serio Però Un piccolo approfondimento Possiamo darlo Su una Una di queste crisi Diciamo che Travolse La classe politica italiana Con lo scandalo Quello della Scandalo P2 Della P2 Esatto Praticamente Che cos'è la P2 In poche parole È una Sicuramente Persone Non lo sanno Esattamente Cos'è Esatto È una Loggia massonica Deviata Perché deviata? Perché bisogna distinguerla Dalla massoneria storica La massoneria storica In realtà Esiste da tanti secoli Almeno dal 1700 Anche prima E non era altro Che un network Di intellettuali Artisti Scrittori Musicisti Filosofi Europei Principalmente Poi anche Oltreoceano Ovviamente Mente più brillante Quasi Esatto Che appunto Si riunivano In questi circoli Molto Ristretti Molto segreti Con tutta una serie Di Di riti Di riti Esatto Iniziatici Quasi A volte Magari Esoterici Lì Bisogna vedere Da loggia A loggia Ognuno aveva I suoi regolamenti E le sue attenzioni In particolare Su un determinato aspetto Però Diciamo che la massoneria Ha sempre ricoperto Un ruolo A livello storico Propositivo Nei confronti Della società Umana In generale In particolare Si può dire Senza timore Che In gran parte Di quello Che noi siamo oggi Come società Occidentale Quindi pluralista Tendenzialmente orientata Al progresso Tendenzialmente E quant'altro Però si Tendenzialmente Lo dobbiamo proprio Anche All'azione Di Dei massoni Per citarne uno su tutti Storico Emblematico Voltaire E non Massone E a lui Dobbiamo gran parte Insomma Della base Del pensiero politico Moderno Occidentale Però cos'era Questa P2 Era una loggia Inizialmente Legata al Grand Oriente D'Italia Poi Disconosciuta Anche il Grand Oriente D'Italia E diciamo L'organo Che Riunisce Che gestisce Tra virgolette Da una direzione A tutte le Logge Massoniche Che ci stanno sotto Italiane Ovviamente Invece La P2 Era questa Loggia Massonica Che viene definita Deviata Perché i suoi fini Erano fini Eversivi Sostanzialmente Di controllo Insomma C'erano al suo interno Diverse personalità Controllare le masse Più che controllare Le masse Controllare L'andamento Della società E della politica Italiana Al contempo Perché al suo interno C'erano anche Numerosi Esponenti Politici Controllarla Appunto Un po' Dalle retrovie Da dietro Esatto Questa Senza Umma umma Senza fare vedere Esatto Tutto un po' Nascosto Era stata Creata Insomma Questa loggia Era stata Creata E si era Radunata Attorno a Questo personaggio Licio Gelli Che è un altro Personaggio Che meriterebbe Una puntata Solo lui Una puntata Solo per lui E Quando Praticamente In seguito A una Perquisizione In una villa Di proprietà di Gelli Uscirono fuori I registri Dell'iscrizione A questa loggia Che sono Tendenzialmente Segreti Anche se In realtà Non in tutti Gli stati In molti stati È pubblica La lista Dei massoni Perché Ogni Nazione Io ricordo Dei nomi All'interno Della P2 Tipo Maurizio Costanzo Maurizio Silvio Silvio Berlusconi Che era Proprio Nel All'apice Nella sua Carriera Imprenditoriale E Insomma E Numerosi Altri Altri Esponenti Sia Dell'imprenditoria Che della Classe Politica E Questo Fu Un Grande Scandalo Che Insomma Travolse La presidenza Di Pertini Proprio Eh sì E La Se l'ha presa in pieno Insomma E Perché non sapeva nulla Quindi è difficile Credere che sapesse qualcosa Non lo so Però Eh Questi Questi sono un po' I misteri Sinceramente Non Non saprei Che cosa Che cosa Dirti Difficile pensare Che lo sapesse Se Udo teorie Complottisse Insomma Cerchiamo un attimo Un attimo Di lasciarle fuori E La presidenza Di Pertini Tra l'altro In quegli anni Proprio Anzi Proprio In seguito A Già negli anni Successivi All'emersione Anche di Quest'altro Scandalo Fu Fu Protagonista Insomma Assistette A Dei fatti Che Segnarono Profondamente L'opinione pubblica Italiana E la nostra Storia Negli anni Ottanta Infatti La prima metà E poi Mano a mano Che Passeranno Gli anni Se andrà Verso gli anni Novanta Andrà sempre Intensificarsi Sono gli anni In cui assistiamo All'esplosione Della Delle violenze Di stampo mafioso Degli attentati Di stampo mafioso Viene Nel 1982 Il generale Della chiesa Generale Della chiesa Viene Viene assassinato Pertino Ovviamente Sarà lì presente Sarà i funerali Chiaramente Essendo anche Una figura Di spicco Dello Stato Dello Stato Italiano E Un altro Un altro Elemento Un altro Episodio Che Segniò Molto L'opinione pubblica Italiana Fu la morte Di Enrico Berlinguer Certo Segretario Del partito Comunista Si trovava A Padova Se non sbaglio Per un comizio Si sentì male E Nel giro di una notte Morì Andò E Pertini Che all'epoca Anche lui Era Si trovava Più o meno In quelle zone Per altri impegni Si recò subito Ovviamente Sia al capezzale Che Poi Insomma Di fronte Al corpo esanime Di quello che lui definì Il suo vecchio compagno Di tante lotte Perché Nonostante comunque Socialisti E Comunisti Soprattutto Da dopo Il 1956 Quindi Con la repressione Di quella famosa Rivolta Che ci fu In Ungheria Ah beh Chiaro All'indomani Della morte Di Stalin E Della denuncia Del suo successore Khrushchev Di tutti Diciamo I crimini Commessi da Stalin E gli errori Certo Gli orrori Anzi Commessi da Stalin Errori E orrori Pensarono In Ungheria Pensarono Che Insomma Si apriva Una nuova stagione Di Di riforme Di libertà Lontani appunto Si si era lasciati Alle spalle Lo stalinismo Sembrava Che si andasse In una nuova Verso un'altra direzione Verso un'altra direzione Ci furono Una serie Di proteste Che furono Dall'Unione Sovietica Represse nel sangue E da quel momento Diciamo Fra i comunisti E i socialisti Si aprì un solco Beh certo Anche perché Non è abbastanza Stare dietro Una roba del genere Esatto Poi in realtà Comunque timide Prese di distanze Da parte dei comunisti Ci furono Anche da questa repressione Però insomma All'inizio Diciamo La società Comunista italiana Il partito comunista italiano Si trovò molto Colpito Da questa repressione Che non sapeva Come giustificare Anche alla luce Di tutti quei fatti Fatti emergere Appunto Da Da Khrushchev Nel ventesimo congresso Del partito comunista Sovietico Su tutti I crimini commessi Da Stalin Non si aspettavano Proprio che lui Agisse in questa maniera Però nonostante Questo Questo solco Che si era aperto Pertini Lo riconobbe Lo riconosceva Come un individuo Come un politico Incredibilmente capace E Non ha fatto Assolutamente Le persone oggi Dicono che Berlinguer È stato l'ultimo uomo Di sinistra Ad oggi Quindi C'è alcuni Chiaramente Poi Sì Quasi Si apre un mondo Assolutamente Però sì Assolutamente Lui ha avuto questa cosa Con Berlinguer Alla sua morte Esatto E l'ha voluto riportare Poi con tutti gli onori Con l'aereo presidenziale A Roma Tra l'altro La presidenza Pertini E' anche importante Perché Per la prima volta Il governo La carica di presidente Del consiglio Durante la sua presidenza Venne affidata A dei laici Ah sì Non ha degli esponenti Della democrazia cristiana Pensate che L'ultimo Prima di Della presidenza Di Pertini Era stato Parri Nel Praticamente Durante il periodo Dell'assemblea Costituente Quindi Sì Sì Parliamo di 200 anni fa Erano una trentina Di anni Prima Sì Saldamente Guida Demo cristiana E invece Poi con Pertini Siamo le prime aperture Ai laici Che poi porteranno Insomma Quella che è La presidenza Del consiglio Più famosa E famigerata Diciamo Di quell'epoca Che era appunto Nell'82 La presidenza Di Craxi Sì E tra l'altro Nel 1982 Esatto C'è un fatto Altro grande fatto Qui dietro Una foto Di Pertini E Berzot Per chi non lo conosce Sostanzialmente L'Italia Va a giocare I mondiali In Spagna E Un'Italia Appunto Rotta appunto Da quello che era Anche successo In questi anni Una squadra Insultata da tutti Perché dicevano Che l'allenatore Non avesse preso I giocatori corretti Da portare i mondiali Perché aveva preso Paolo Rossi Che arrivava da scandali Di calcio scommesso Non giocava da due anni Quindi insomma Era partita Magli Scandali Noi Veramente Andiamo sempre a braccia Come cosa settimanale Ogni settimana Ce n'è uno Capito Quindi lui Aveva questa squadra Insultata a tutti Tranne Da lui Tranne da Pertini Che dice Berzot Ha scelto quegli uomini E facciamolo lavorare Qual è il problema Facciamolo lavorare L'Italia Vince i mondiali E c'è questa immagine Bellissima di Pertini Che ha il gordo Il Tardelli Si alza in piedi E vuole entrare in campo Il segretario Che cerca di tenerlo Perché chiaramente Lui doveva cercare Di mantenere Un certo tipo di atteggiamento Se la carica istituzionale Dell'Italia Seduta tra l'altro Di fianco al re spagnolo E dall'altra parte C'era il tedesco Che aveva una faccia Tutto Così E chiaramente Il re Carlo Faceva il tipo per noi Perché era di Spagna Spagnoli italiani Esatto Siamo lì E appunto C'è questa Quest'immagine bellissima Poi del 3 a 1 Che segna l'Italia Dove Pertini Si gira E facendo così Dice Non ci prendono più E quindi poi Scende in campo Esulta con Con tutti i calciatori E tornando a casa Lui gioca una partita A carte A scopone Prossima foto Prossima foto Bellissima Esatto Questa foto Un po' sgranata Un po' sgranata Con la Coppa del Monde Pertini che è in coppia Con Zoff Che giocano a carte E diciamo che dopo anni Zoff in un'intervista Disse E Pertini mi mandò Con la sua voce Pertini mi mandò Un telegramma Chiedendomi scusa Per quella partita Perché insomma Pertini diciamo Che a scopone scientifico Ha perso quella partita Però questa è un'immagine Iconica Di quegli anni Dove Il capitano della Nazione Azzurra L'allenatore E il presidente Della Repubblica Italiana Giocano a scopone Mentre Berzo Sull'aereo presidenziale È vero questa da dire Sull'aereo presidenziale Dove Pertini dice a Berzo No ma perché lo faceva lui Sette Berzo È sbagliato a giocare Poi la partita è stata persa Chiaramente È stata È stato un evento Dove L'Italia Che non vinceva il mondiale Dal 38 Praticamente Non vinceva il mondiale Dal 38 Vince il mondiale in Spagna Contro ogni pronostico Perché ha battuto Argentina Brasile E Germania In finale Cosa Che penso Non ricapiterà mai più Nella storia Oddio Spero Per l'amore di Dio Però E Lui Lì Diciamo che È stata la ciliegina Sulla torta Per tutto quello Che aveva portato Vedere Quest'Italia E lui In questo modo Con Con i calciatori Con tutto quello Che è stato È stato quello che Chiaramente Per quello che porta il calcio Perché è lo sport Più seguito Al mondo E quindi Anche chiaramente A quell'epoca Tutti gli italiani Erano molto Secondo me Più vicini Anche alla nazionale Di come lo sono adesso E quindi Aver avuto Quell'evento Averti dato La possibilità Di essere lì A quell'evento Presidente della Repubblica Così Lì è stata proprio La La ciliegina E Poi ci sono Chiaramente Partendo da qui Tantissime Veramente Potremmo stare qua Due ore A parlare di Di Pertini Per tutte le cose Che ha fatto Non so tra l'altro Vabbè Abbiamo ancora Un po' di tempo Volevo ritornare Un attimino Sul discorso Dei giovani Nel senso che Lui Voleva Come dicevo prima Andava nelle università A discutere Con i giovani A parlare Con i giovani Faceva discorsi Mi sembra che Intervistato Da Enzo Biagi Da Enzo Biagi Aveva detto Che lui Voleva Lui era un giovane Era un ragazzo Di 82 anni Cioè lui si sentiva Giovane Cioè lui aveva Questa cosa E credeva nei giovani E Ci sono Noi abbiamo preso Delle Delle citazioni Sui giovani Chiaramente il primo Quello che è stato Il discorso alla camera E quello chiaramente Più Più simbile Emblematico Su quello che Era questo Diciamo che Pertini È stato Quello che Ha Cambiato Il paradigma Di quello che era L'istituzione Come giustamente Dicevi tu Ci sarà mai qualcuno Perché poi la domanda è Perché poi uno dice Un uomo così Nasce una volta Ogni quanti anni Cioè Con i valori di Onestà Fermezza Libertà Libertà anche per L'avversario Libertà Nel In tutto Cioè lui diceva Un uomo non è Davvero libero Se non ha un lavoro Se non può Mantenere i propri figli Un uomo non sente Quella libertà Cioè non ce l'ha Un uomo è libero Quando ha queste cose Quindi dove Cioè quando Potrà rinascere Una persona del genere Che Può credere In quei valori In un mondo Come quello di oggi Del consumismo A livelli pazzeschi Dove ci sono guerre A destra e sinistra Cioè Ci potrà mai essere Un'altra persona del genere In un periodo storico Come questo Allora Fare pronostici No Perché qua a Radio Pertini Si fanno pronostici Tra l'altro E vengono anche presi Poi vi darà I numeri Adesso Pensa a giocare A superenalore No però ho vinto Il Fanta Sanremo Vero Barbara? Vero? Sì e pensa che ho messo La squadra sbagliata Sennò avrei vinto io E me ne vinto Tutti tu Adesso la squadra sbagliata Vedo un po' di malumore Vedo un po' di malumore Siccome il primo anno Che ho fatto il Fanta Sanremo Allora ho messo la squadra Ho preso Dargen Big Mama La Sede Questa gente qua Perché ho detto Prendo quelli un attimino Un po' più esuberanti Che magari mi danno dei punti No? Esatto Giusto pensi Mamma mia Io sono arrivata a sedicesima Perfetto E l'altro giorno Sono venuto qua Mancava la sera della finale Barbara mi fa Ah ma quindi sei tu il primo? E faccio Sì sì sono il primo Ah il secondo è mia sorella Comunque si vede che Chi è primo ha fatto la squadra a caso Che era la prima volta che partecipava Vero Barbara? No perché anch'io È la prima volta che ho partecipato Ma mi sono guardate i video tutorial Che non sono serviti a niente E comunque Monica è arrivata terza Giusto perché sponsorizzo lei Perché io sono arrivata sesta Ma secondo chi è arrivato? Ho visto che è arrivato qualcuno Streva No Streva è arrivato No un ragazzo del vive Ah ok ok Si chiama Aspetta è il ragazzo che è venuto oggi pomeriggio Lorenzo forse Ah Lorenzo Vabbè complimenti Lorenzo Davide Ah Davide Scusa Lorenzo Grande Davide E comunque ripeto Barbara Quest'anno io ho vinto il Fanta Sanremo E tutti sotto eh Capito? Mi rifarò l'anno prossimo Bravissimo bravissimo Sei la nostra Italia dell'82 Hai visto? Incredibile Spavoritissimo Contra tutti i pronostici Pazzesco E no appunto dicevo Qui a Radio Pertini si fanno dei pronostici Che a volte vengono anche presi Facciamo dei pronostici Facciamo dei pronostici Ma perché Noi parliamo In questo caso Non parliamo solo di Pertini Ma parliamo di una classe politica In generale Che è stata forgiata Prima dalla prima guerra mondiale Poi dalla seconda Che in Italia Ha Sulla finire Ma anche all'inizio Vissi i moti di resistenza Ha sento i toni di una guerra civile Era una guerra civile A tutti gli effetti Quindi Proprio a livello Mondiale direi quasi C'era questa Attenzione A questi valori Quali la libertà Valori universali Come la pace Cercare una via Prospera Per tutti Che mano a mano Sono un po' Andati Perduti Un po' Per colpa Magari anche Della società stessa Sempre più disinteressata Ormai Dimenticatosi Degli orrori del passato Ormai anche I pochi Perché non li hanno neanche vissuti Esattamente Poi tra l'altro I pochi Supersiti Ormai Di Di questi fatti sanguinosi Specialmente della seconda guerra mondiale Per regioni anagrafiche Stanno mano a mano Andando a scomparire Certo Quindi diciamo È molto importante Tenere viva la memoria E Chiarire bene Che cosa Furono quegli anni E noi siamo qua per questo Esatto Esatto Perché praticamente Una personalità del genere Nasceva solo da esperienze così Quindi Ci sarà mai Un'esperienza Così C'è una persona simile Difficile Chi lo sa Dovremmo passare Per esperienze traumatiche Forse Io spero Speriamo Speriamo di no Contanto che Comunque Insomma Figure Che istituzionalmente Ci rappresentano Dovere Ci sono Certo Certo Assolutamente Assolutamente Però Obiettivamente Nessuno mai Praticamente Mai più Avuto Questa capacità Di Traghettare Il paese In un periodo Di profonda crisi Come era Appunto Questo qua Con fermezza Ma allo stesso tempo Con la leggerezza Necessaria E anche un po' Passatemi magari Il termine Un po' Un po' Necessario Per far andare giù Situazioni Comunque Non propriamente Belle Serene Brillanti Come erano appunto Gli anni di piombo Proprio Certo Che gli anni Delle stragi A stampo Mafioso E Sì Diciamo che È veramente Difficile Pensare Ad una persona Che racchiude In sé Tutte queste Caratteristiche Anche perché Tra l'altro Proprio In occasione Del mondiale Dell'82 Quando Pertini Si recò Ad assistere Alla finale In seguito Fu raggiunto Da delle Dai giornali Soliti giornalisti Dalle solite domande E uno Li pose Questa domanda Gli chiese Se secondo lui Fosse il caso Che in un periodo Tanto Oscuro Per l'Italia Lui fosse andato Allo stadio Si fosse fatto vedere Insomma A festeggiare Così esuberante Perché Come dicevi te Lui che si gira Fa il gesto Non ci prendete più O che vuole andare in campo E deve essere tenuto Da segretario Sono scene Che comunque All'epoca Assolutamente La società Non era abituata Assolutamente A vedere Quindi Insomma Questa sua Esuberanza Diciamo Fece abbastanza scandalo Tanto che appunto Questo giornalista Gli pose questa domanda Se Fosse stato il caso Di andare lì E anche Lui Rispose Con questa metafora Dicendo che Come un lavoratore Al diritto Dopo sei giorni di lavoro A godersi Una domenica In santa pace Senza che nessuno Li rompa i coglioni Di divertimento In spiaggia In montagna Dove Dove vuole lui Così Praticamente L'Italia intera Ha fatto lo stesso Si sta godendo Questa incredibile Domenica Che è la vittoria Che è la vittoria Al mondiale E poi a lunedì Del lunedì Ci penseremo lunedì Però Lasciateci il diritto Di festeggiare Un momento leggero Che era quello Che ci voleva Perché veramente Arrivavamo da Anni e anni Di tragedie Di stragi Di scandali Che stavano Stancando La popolazione italiana Prima ancora C'era stata Cosa che non abbiamo citato Ma è bene fare La crisi energetica In seguito Alla guerra Dello Yom Kippur Che aveva visto Praticamente I paesi esportatori Di petrolio Alzare tantissimi prezzi E che si era tradotta Per tutti Mi viene in mente qualcosa Sì esatto Non citiamo i protagonisti Di questa guerra No per morte di Dio Praticamente Aveva questo Innalzamento dei prezzi Aveva portato Tutte gli stati Tutte le nazioni Che erano Legati a questi stati Per l'importazione Del petrolio Li aveva portati In un periodo Di quella che veniva Definita austerity Per la prima volta Si sente risuonare Tanto questa Questa parola Famosa Citata anche Da Berlin War In un discorso Prima volta Che un comunista Citava Una cosa del genere Perché insomma Appunto C'era questa Mancanza Di petrolio Che si traduceva In una crisi energetica E insomma Era veramente Un periodo Buio Difficile E pesante Per la Popolazione Per la società In generale E poi c'era lui Esatto E lui Con il suo modo di fare Con questo suo Questa sua capacità Di essere Sia fermo Sia deciso Sia un uomo di polso Ma anche un uomo Incredibilmente gioviale Allegro Combattivo Perché aveva Quest'indole combattive Lo si vede Quando Anche quando parla Esatto Sia quando parla Ma soprattutto Quando si vanno magari A recuperare Video Che Di suoi Convegni Piuttosto che Quello dell'università Ad esempio Quello dell'università Quando lui veniva Magari contestato Soprattutto dai giovani Lì era proprio lì Che si fermava a parlarci Quel video dell'università E poi quel video lì Dove vediamo praticamente Questo ragazzo Che contesta Il fatto che appunto Le persone devono essere oneste E lui dice Ma dove io ti ho tradito Dimmi dove ti ho tradito Su questo punto Correttore Dietro Che cerca di portarlo via E per chi mi dice No mi lasci qua Io sono un ribelle Rimango qua No direttore Io sono un rettore Io sono un ribelle E applauso grandissimo Però sì Cioè lui aveva questa Questa voglia Di discutere con i giovani Allora Dovremmo essere Tra l'altro in chiusura Più o meno Un orario del genere Quindi Allora innanzitutto Abbiamo parlato Di una figura Immortale Uno dei mostri sacri Chiaramente Del nostro paese Ci troverete di nuovo qui Non vi spoileriamo niente Sulla prossima puntata Però Ancora Devo dirglielo Allora Siccome domani È il 14 Ed è appunto Barba che giorno è domani? E San Valentino È l'onomostico Di mia sorella più grande Barba Allora auguri Allora gli facciamo gli auguri Domani è San Valentino Appunto Ma la domanda è Ma sto San Valentino Ma chi è? Cioè che cosa? Perché? Ma chi è? Eh chi è? Eh boh Chi lo sa? Che tutti festeggi Regale Rosa Destra e Sinistra Ma perché lo fate? Quindi magari Parleremo Non lo so Adesso vedremo Un attimino Cosa fare Quindi Allora Intanto Chiudiamo questa puntata Questa primissima puntata Di Storie di Protagonisti Un grazie Un grazie E un altro Grazie a Lore Grazie a te Per avermi invitato In questo progetto Che vedremo tanto spesso Saremo sempre noi due I nostri faccioni Saranno sempre questi E grazie chiaramente Alla nostra regia Barbara e Noemi Grazie a voi Mi raccomando Adesso bisogna andare a mangiare Vero? Bravissima E allora noi Vi salutiamo Con questa bellissima foto Della Coppa del Mondo Dell'82 Un po' sgranata Ma insomma Pensiamo l'abbiate vista tutti Esatto Esatto L'idea era quella Con il nostro Sandro Pertini E tutti gli altri Quindi insomma Grazie per essere stati con noi stasera E ci vediamo Non martedì prossimo Ma tra due martedì